Ciao a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video. Ritorniamo a parlare di periferiche da gaming e in questo caso della Cooler Master MS110 che sto provando da circa una settimana. La nuovissima proposta di Cooler Master dedicata a chi vuole una combo mouse e tastiera da non spendersi troppo ma ben efficace sia nell'uso quotidiano che nell'uso gaming. Io questa tastiera è l'erede del kit Devastator, chi se lo ricorda? Erano tanti tanti anni fa, forse nel 2014-2015 uscì il primo kit Devastator disponibile con tre tipi di retroilluminazioni e una qualità costruttiva che era tipica dell'epoca. Poi rinnovato con Devastator 2, poi rinnovato con il kit Master Keys Light L Combo di cui trovate ancora il video qui nel mio canale. Questa MS110 arriva con una qualità davvero più elevata ad un prezzo che è di poco inferiore a 50€ ma come al solito trovate tutti i link qui sotto nella descrizione. Ripeto, l'ho provato per circa una settimana in varie situazioni, adesso sono pronto a raccontarvi come va ma prima di continuare iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivate le notifiche cliccando sull'apposita campanellina perché ci saranno tantissime novità perché là c'è una scatola con delle cuffie wireless sempre di cooler master che potrebbero riservare non poche sorprese ma bando alle ciance iniziamo con questa recensione. Prima iniziamo con la tastiera e poi dopo analizziamo il mouse che come al solito è la parte che più sorprende proprio perché riesce a coadiuvare specifiche tecniche di buon livello in una combo, in un kit quindi è una cosa che riesce a far rimanere a bocca aperta. Iniziamo però con la tastiera, la tastiera è una tastiera full quindi ha un layout tradizionale con una qualità costruttiva ben superiore rispetto a quanto avveniva con il kit Devastator e superiore rispetto anche alla Master Kit Lite L quindi abbiamo degli assemblaggi solidi, una bellissima sensazione al tatto, plastica ABS di buona qualità il che significa che sono durevoli. Non ci sono assolutamente scricchioli, le plastiche non assorbono né sporco né polvere quindi davvero danno un bell'impatto non solo dal punto di vista costruttivo e del design ma anche dal punto di vista estetico. Davvero un prodotto ben rifinito, ben fatto come potete vedere nelle immagini in sovra impressione. Non solo è un kit, è una tastiera soprattutto che arriva con layout italiano quindi nessun problema per quanto riguarda il posizionamento dei tasti e soprattutto delle accentate che sappiamo bene essere uno dei grandi talloni da chille di gran parte dei prodotti attualmente disponibili sul mercato. La particolarità di questa tastiera è senza dubbio la tecnologia e la meccanica del tasso. Si tratta di una tastiera a membrana ma ha uno switch cosiddetto così chiamato da Cooler Master memcanico. Questo cosa significa? Che si tratta di base di una tastiera a membrana quindi con i pregi e i difetti di una tastiera a membrana quindi un click silenzioso funziona bene e si può utilizzare anche in ufficio senza creare fastidio e rumorosità troppo elevate per chi vi circonda. La caratteristica però che piace è che Cooler Master ha lavorato per creare uno switch, un meccanismo che ricordi un po' quello delle meccaniche. Proprio a questo punto c'è praticamente quando voi andate a premere il tasto sentite una leggera resistenza e un click, un semi click all'attuazione. E' un feedback molto particolare, non assomiglia a quello di una meccanica pura ma che ha il classico switch che può essere Ceri, che può essere Gateron, che può essere di tanti brand diversi ma si allontana comunque rispetto a quello di una membrana classica. La membrana classica è la tastiera che trovate magari in un ufficio o che avete di base, quelle che costano anche economiche anche se poi il mercato si è evoluto e ci sono tastiere a membrana che costano anche più di 100€ ma bando alle ciance parliamo di questa MS110 perché ha tutto quello che serve. Innanzitutto la digitazione è molto buona, devo essere onesto io lavoro al 100% con una tastiera meccanica quindi ho avuto bisogno di circa una giornata per abituarmi al fatto che qui l'attuazione non è a metà della corsa del tasto quindi devi andare per forza fino al fondo per far sì che l'input venga trasmesso al computer. E' un'abitudine che è una particolarità che chi lavora con una meccanica percepisce ma non verrà mai percepita da chi passa da una membrana diciamo base ad una membrana di questo tipo perché il funzionamento è esattamente lo stesso quindi non ci saranno differenze e quindi non è secondo me una critica. Questo perché? Perché questo kit non è sicuramente pensato per chi cerca un prodotto professionale quindi una tastiera meccanica magari per giocare ad alti livelli ma è pensato per chi cerca un prodotto sì funzionale sì ma economico e quindi si approccia magari muove i primi passi nel mondo del gaming e quindi sta cercando un bundle che possa soddisfare le esigenze senza però puntare assolutamente al top ma offrendo comunque una buona qualità costruttiva e varie caratteristiche che vedremo tra poco. Per farle funzionare al meglio non c'è bisogno di alcun software e questo per me è un grande plus. Perché? Perché il software può mettere in difficoltà gli utenti alle prime armi. Io lavoro, testo migliaia di prodotti per cui so benissimo che bisogna scaricare il software, bisogna configurarlo c'è bisogno anche di perderci qualche minuto per la configurazione in modo da cucire il funzionamento di quel prodotto addosso alla propria esigenza. Tuttavia un utente alle prime armi magari non è avvezzo con queste dinamiche e quindi ha fatto bene Cooler Master a integrare tutte le opzioni direttamente all'interno della tastiera. Tramite combinazioni di tasti FN più altri vari tasti sarebbe infatti possibile non solo aumentare o diminuire la luminosità della tastiera della retroilluminazione fino a spegnerla. Una retroilluminazione RGB diffusa perché c'è un piccolo pannello semitrasparente che aiuta a diffondere l'illuminazione creata dai LED RGB e illuminazione che peraltro è personalizzabile. Potete scegliere non solo tra una tinta unica ma anche tra vari effetti per esempio io ho messo quella modalità arcobaleno che è quella di solito classica in una tastiera RGB ma potete scegliere anche tanti altri effetti. Purtroppo al contrario di quanto avviene sulle tastiere top di gamma anche di Cooler Master non è possibile personalizzare l'illuminazione di ogni singolo tasto ma la retroilluminazione è ben potente e quando siete al buio vi permette comunque di identificare facilmente i tasti senza alcun problema. A me è piaciuto tantissimo il fatto che sia un layout tradizionale quindi ci si sente un po' a casa diciamo si sente sia subito quel feedback che ama che cerca chi è abituato a lavorare con una tastiera full quindi non dovete rinunciare a nulla né al tastiero numerico né magari ai tasti funzione. Sebbene non sia possibile personalizzare l'illuminazione del singolo tasto si può però andare a personalizzare poi la gradazione del colore infatti tramite combinazione FN più tasti funzione dedicati F2, F3, F4 si può andare a variare la gradazione di blu, verde e rosso che sono appunto i colori primari RGB, red, green, blu che portano poi a creare tutti i colori, tutto lo spettro colori che questa tastiera può insomma raffigurare e questo permette poi di cucirsi addosso diciamo la retroilluminazione per renderla unica a seconda dei propri gusti. Devo dire che il funzionamento FN con tutti gli altri tasti è ben fatto e soprattutto tutte le seconde funzioni sono ben chiare e ben leggibili. Non solo non ci sono i tasti multimediali dedicati ma sono in seconda funzione sempre tramite pressione del tasto FN che riporta il simbolo di Cooler Master, il nuovo logo che secondo me è bellissimo e permette poi di non solo controllare la riproduzione multimediale ma anche di regolare le opzioni per quanto riguarda il volume. Quindi c'è davvero tutto, è una tastiera che per quello che costa diciamo che se dobbiamo ripartire il costo totale del kit possiamo dire che la tastiera da sola costa 30 euro, il mouse da solo costa 15 euro. Per 30 euro questa tastiera offre rispetto alla media delle tastiere a 30 euro una qualità ben superiore a livello costruttivo e tutte le funzioni di cui realmente c'è bisogno. Un'altra caratteristica non da poco è che lo stem dello switch, ovvero l'attacco dello switch a cui attaccare e collegare il tasto è lo stesso di quello cherry, quindi il classico con un piccolo cerchio e la crocetta e quindi questo permette poi di sostituire i tasti volendo con altri tasti di vostro gradimento. Un'operazione che può essere un plus sicuramente ma che secondo me su una tastiera di questo livello è superflua, però c'è diciamo. Poi passiamo al mouse, il mouse di questo kit è come tutti i kit di Cooler Master che ho provato, quindi quelli economici è la cosa che sorprende di più. Innanzitutto è molto base, nel senso anche in questo caso non c'è un software per il funzionamento, però per giocare, per lavorare offre tutto quello che si può desiderare. Ha 4 livelli di DPI, ovvero 400, 800, 1200 e 3200 che si cambiano con il pulsante centrale posto subito dietro la ghiera e ogni volta che cambiate DPI l'illuminazione dietro la ghiera si illumina di un colore diverso, quindi è sufficiente poi associare il colore ad un determinato livello di DPI per ricordare, per vedere su quale livello si sta utilizzando il mouse. Non solo, anche in questo caso la retroilluminazione RGB è su tutto il mouse ed è personalizzabile sempre tramite combinazione di tasti. La cosa bella è che potete personalizzare il mouse in un modo e la tastiera in un altro modo senza alcun problema, perché poi si tratta effettivamente di due periferiche indipendenti. Quindi mouse che offre un design ergonomico e che presenta anche due tasti laterali che ovviamente nei videogiochi poi trasferanno personalizzabili, nel senso che potrete tramite le impostazioni del videogioco andarli ad associare a determinate operazioni e questo facilita sempre non poco la fruibilità e poi la giocabilità all'interno di non solo di giochi ma anche di alcuni programmi. Io per esempio utilizzo Sony Vegas per editare i miei video e poter associare questi due pulsanti a determinate operazioni sicuramente mi agevola il workflow. Dopodiché l'ergonomia è davvero buona, anche in questo caso materiali, Cooler Master ha fatto un ottimo lavoro e mi sento di promuovere questo kit sia per quanto riguarda la tastiera sia per quanto riguarda il mouse. Il mouse è davvero leggera, pesa pochissimi grammi e offre un'ergonomia ottima anche per sessioni prolungate non avete mai la sensazione di avere una scomodità all'avambraccio o una presa non salda. Ricordiamoci sempre che si tratta di un kit che tutto incluso costa 45-50 euro quindi un prezzo davvero molto basso per la qualità offerta e delle funzionalità che in fondo in fondo non è che vi fanno rinunciare a niente. Vi ricordo che per giocare non è per forza necessario avere la tastiera da 200 euro il mouse da 300 euro e il monitor da 1000 euro io ho iniziato a giocare con la tastiera da 10 euro e il mouse da 5 euro si gioca allo stesso modo poi è ovvio che magari più cresci più vuoi più comfort, più funzioni e quindi vai a cercare dei prodotti un po' più avanzati però ricordo questo è un kit pensato per chi sta iniziando ma vuole qualcosa di un po' meglio e più personalizzabile rispetto alla base base che si può trovare sul mercato e per il prezzo a cui viene offerto davvero è difficile trovare di meglio vi lascio il link qui sotto nella descrizione per controllare il prezzo perché magari ogni tanto può subire qualche variazione e andare in offerta lasciatemi un bel mi piace a questo video se vi fosse piaciuto iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e noi come al solito ci vediamo al prossimo video iscrivetevi perché ce ne saranno delle belle ciao ciao